ciao benvenuti in questo nuovissimo video e ora spariamo questo ecco con l'arma ce l'abbiamo fatta nascondiamoci e quindi cazzo cazzo vaffanculo basta bastava togliere il volume per farlo funzionare abbiamo messo soltanto il cavo per il joystick e quindi voilà e siamo qui quanti quanti cazzo sono ci vengono tutti come la qui in campagna come cosa è come cavolo batter fi non è peggio di batter fi costa questi isa dell'isa si protoni di già isa di questi siani questi insiani questi insiani questi insiani del insiani insiani è un nome in talantia in thailandia è un nome di una città di in talandia come dicono ha scorreggiato in faccia questo coglione tieni mi ha scorreggiato questo coglione oh questa arma si guarda lì che fa ti è morto come è morto bene ho vinto ho vinto cazzo questa è la bella vincita era vincita questo c'è anche in città questa è la campagna questo questa è qui è il gioco che costa di meno il gioco quanto costa 4 euro costa questo gioco 2 euro costa 2 euro adesso per la ps2 costa 50 centesimi no no costa 5 centesimi questo gioco costa 50 centesimi non costa 4 anche no no non è come batterlo che costa 20 euro fallout anche lui costa così fallout costa 21 euro o 22 o anche 24 euro e quindi questo qua perché quando si blocca costano 50 centesimi o 40 centesimi da quant'è che si blocca quando l'ho fatto l'hanno fatto costa 4 euro 4 ma dipende chi chi li ha quello che fanno guadagnare 4 euro è quello per la ps3 sì quello per la ps3 4 euro quello per la ps4 9 euro cosa 9 euro per la ps4 per quello è tarocco che taroccato di gioco e poi mi affendete qui c'è ah concorda con il sfigato che prende in giro questo gioco che è brutto come è caduto come forse che è a fare il replay che cade come è caduto come proprio si è incazzato e l'hai preso e l'hai tirato via tipo quanti incazzi in casa in casa con qualcuna di casa tua prendi tipo il tavolo e lo tiri via con tutti i piatti i bicchieri è quello merda quello dove spara ah ho finito che spara in là però al fine spara vuole spara a te guarda che feroce ho questo oh sì oh che bello vuole singolare questo con il froce coglione guarda 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 qui guarda 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 che sono qui yeah però che merda spara vuoi spararti no scusate la batteria è scarica e quindi là cos'è è un pesce è un coso che sembra un pesce guarda 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 i figli stai guarda come sono sembra una catena di biciclette sembra una catena di biciclette una catena di biciclette è andata sembra quella lì presente come si chiamava come si chiamava eh mi ricordo più il nome ah con i pelati con i pelati hanno un po' faccia strana merda 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 sono parte mia della parte mia ah e e e quello lì è quello su butterfield quello quello che sono su butterfield che quello che stanno della parte di quel pelato presenti quelli quelli che parlavano con me e che gli altri non possono parlare con me perché hanno paura che lo prendono lo legano e lo mettono nell'ospitale dei matti che si incasano troppo e fanno i matti con i pelati ciao a tutti commentate al prossimo video e si e poi presente che quel che sono caduti sono caduti da sopra e beh ci sono zombie poi ci sono come si chiamano gli altri mostri poi ci sono eh ci sono quelli del error poi basta che ne so io sono tutti i mostri tutti i tipi di mostri e poi basta di mostri